Ciao a tutti amici, benvenuti e bentornati su The Infected, come al saluto io sono Amor Ucchidal, benvenuto in questo nuovissimo video amici, siamo tornati su The Infected, nuovissima puntata, andiamo a giocarcela, siamo in questo inverno ma ci sono alcune novità, le andremo a vedere subitissime in game, ma prima di tutto vi ricordo di supportare questa serie se volete farla andare avanti con un bel mi piace, supportate questo canale che non prende neanche un euro e questa serie con un bel mi piace. Un commento e una condivisione, vi ricordo inoltre che esiste la pagina Instagram, Facebook, il gruppo Telegram, un'applicazione simile a Whatsapp dove non dovete lasciare il vostro numero di cellulare, non lo vedrà nessuno, ma potrete entrare nel gruppo di Amor Rouge Gaming, del canale di Amor Rouge Gaming con una grande comunità che si sta formando per giocare un po' se volete cercare altra gente con cui giocare alcuni giochi, se volete parlare di qualsiasi argomento, Amor Rouge Gaming è il vostro gruppo per cui vi aspetto. lì con Telegram, un'app totalmente gratuito ed è tutto gratuito come ben sapete. Detto questo direi di andare in game. ed eccoci finalmente in game. Allora amici siamo sempre in inverno, ok siamo in inverno però siamo al giorno 15, quindi secondo i miei calcoli ogni stagione dovrebbe durare quattro giorni, quindi 4, 8, 12, 16 potremmo essere agli ultimi giorni dell'inverno, inverno dove sono morto un po' di volte ve lo dico, ma sono riuscito ad andare un po' avanti, vi faccio vedere alcune cose. Allora innanzitutto qua sono andato avanti e ho fatto delle prove. Una delle prove è stata sicuramente andare avanti con la fornace che comunque rilascia calore, ma bisogna stare attenti perché come siamo vestiti, cioè con questo cappotto qua, rischiamo anche di morire di troppo caldo, quindi c'è un po' una cosa così. Inoltre sono riuscito a trovare dei semi perché le piante sponano anche in inverno, io non so se sia un bug, un difetto o quello che è, però sponano anche in inverno e sono riuscito a recuperare dei semi. In più ho fatto una prova, cioè ho messo qua una piantina vicino alla fornace, ebbene la piantina non è morta, non è cresciuta ma non è morta, non è cresciuta perché non c'è l'acqua, non è morta perché rimane al caldo. Quindi l'idea è quella di far fuori sti tizi qua che mi sono già spaventato. Guardatelo qua, guardatelo, guardatelo qua, maledetto, maledetto sei tu, sei tu un maledetto, sempre un maledetto. Mentre parlo, sempre, questi arrivano sempre, hanno fatto altri attacchi di notte, ma andiamo avanti, non perdiamo tempo. Stavo dicendo che la piantina non è né andata avanti, non è cresciuta, non è morta, e quindi vuol dire che nel prossimo inverno bisogna sicuramente, magari in questa zona qua, oppure sopra, e qua vi farò vedere un po' la base come è andata avanti, creare un orto interno, appunto per salvarlo dall'inverno. Ma questo è un altro discorso, potremmo anche eventualmente in un futuro prossimo di qualche puntata andare magari, e dico magari, a trovare ad esempio il frigo, che però penso, e ripeto penso, vada addirittura, anzi penso sicuramente, visto che c'è scritto, va a energia. Intanto nebica fuori, bel clima di neve, ma non è eccezionale per noi. E nel mentre continuiamo a smeltare, e poi vi dico le altre cose. Dunque ho provato un po' di cosine, nel senso che, mi avete detto, eiamo a procurare l'acqua, prova. Qua, guardate qua il pesce, guardate questo pesce che si è bloccato qua, guardate, si riesce a prendere? No, purtroppo no, invece sì, e invece ce l'abbiamo fatta, qua abbiamo sfruttato un bug, questo qua è un bug, cioè tipicamente questo qua è un bug, perché di solito il pesce non potrebbe stare a pelo d'acqua, ma va bene, anzi a pelo di ghiaccio. Comunque ho provato anche a fare questo lavoro qua, cioè a cercare di spaccare, non si riesce. Però in alcune zone sembra che si cammini sull'acqua, sentite? Però la, purtroppo, guardate, la borraccia non possiamo ricaricarla. Il che è perché esiste solo un unico modo probabilmente per recuperare l'acqua oltre al lago, e cioè quello di fondamentalmente avere, sembrerebbe dai vostri commenti, ma non l'ho provato, ma sicuramente lo proveremo, andare nei posizionabili e qua abbiamo, eccolo qua, il catino per l'acqua. Dovrebbe raccogliere anche la neve, spero, però servono dieci di ferro. Ma io, nel mentre, ho continuato ad andare avanti qua, alla grande proprio, cioè, proprio, sono andato avanti alla grande, e vedete infatti che abbiamo un po' di ferro e un bel po' di rame. Questo è quello che ho fatto in tutto l'inverno. In più, ho fatto ulteriori cose, e cioè, ho tagliato un po' di alberi, ho sistemato un po' di cose, ho trovato dei semi in giro, ho esplorato un po' in giro qua, non andando avanti veramente tanto. Ecco, guardate, adesso è morta. Perché? Perché la fornace qua ha smesso di andare, e quindi è morta la pianta. Vedete, questo è test brutto, che però ha dato i suoi frutti. Qua abbiamo un'ora e cinquantotto, lasciamolo così. Ora, cosa è successo? Qua alla base cosa ho fatto? Chiuso qua tutto il tetto, chiuso qua il tetto, qua ho fatto delle scale che vanno sopra per l'altro piano, che poi si potrebbe sviluppare qua, oppure chiudersi addirittura qua. Di questa cosa ve lo chiedo nei commenti. Volete che faccia tutto il piano, oppure che chiudi qua, cioè, chiuda, chiudi, chiuda qua? Cioè, la mia idea è quella di chiudere qua, aprire qua e qua fare tipo un balconcino. Tutto il piano, balconcino? Scrivetemelo nei commenti. Nel mentre, però, vi faccio vedere un'ulteriore cosa, che nella scorsa puntata avevo iniziato a fare, ma poi non ve l'ho fatta vedere. Cioè, questa. Ho fatto una delle torrette, così. Cioè, si sale sopra qua, di qua si può in realtà uscire, ok? Non si può più saltare, quindi neanche quegli zombie lì riusciranno a saltare, credo, ma viene comoda per attaccarli. Quindi, fantastico anche questo. Possiamo attaccarli stando coperti, evitando che ci attacchino corpo a corpo. Questa potrebbe essere l'idea. Ora, però, vedete che la base ha bisogno e necessita di altre costruzioni. Voglio fare un po' di prove, anche in questa puntata. Una di queste è, visto che sono le 3.15, e la sto smeltando ancora, e dovrei aver finito, è così. Quindi smeltiamo questo e smeltiamo questo, ci facciamo altri lingotti. È quella di aspettare il giorno dopo, cioè il giorno 16, che potrebbe essere la fine dell'inverno o l'ultimo giorno dell'inverno, per come la penso io. Quindi, attenderei un attimo, intanto vado avanti a smeltare e a raccogliere qualcosa. Direi a questo punto di fare la prova del catino. Ho recuperato un po' di legna ancora, che male non fa. Andiamo qua, e in effetti, guardate, qua abbiamo dell'altro ferro e dell'altro rame. Andiamo a vedere subito. Andiamo sui posizionabili, su alimento, e a questo punto abbiamo il catino per l'acqua, serve ferro 10. Quindi io direi di farlo assolutissimamente qua fuori, perché voglio vedere subito se funziona, visto che sta già nevicando, quindi potrebbe essere un ottimo test. Lo mettiamo magari in zona qua, potrebbe essere ottimo qui, e recuperiamo, mi apro sempre la porta in faccia, e recuperiamo assolutissimamente qua del ferro. Recuperiamolo. Ora, 5, 6, 7, 8, 9. Non abbiamo, non riusciamo a portare abbastanza, però facciamo un paio di giri. Ha smesso di nevicare, fantastico. Ne manca solo uno, però comunque ci servirà, e capiremo se funziona, perché sicuramente nevicherà ancora. Questo è poco ma sicuro, oppure inizierà a piovere. Oh, ecco qua. Catino per l'acqua, che è vuoto, per ora, credo. Prendi l'acqua. C'è dell'acqua? No. No perché, sostanzialmente, sembrava ci fosse dell'acqua, ma in realtà non c'è, perché l'ho tirata su, ma qua, acqua sporca, zero. Quindi acqua non ne abbiamo. Che cavolo diceva che c'era l'acqua, che poi non c'è. Però guardate il tempo. Dunque, meno 8 gradi. È vero che fa freddo, ma secondo me è cambiato il freddo. Potrebbe essere cambiato il freddo. Sembra, sapete quando, quelle stagioni d'inverno che danno verso la primavera? Perché, vedete, gli alberi sono verdi, diciamo. Cioè, inizia a esserci del verde. Devo dire che potrebbe assomigliare a quella cosa lì. Potrebbe, ripeto, potrebbe assomigliare. Lo capirevo con il tempo. Nel mentre, continua a smeltare. Vediamo un po' cosa succede. Altra cosa importante è la questione sassi, che giocando off camera sono riuscito abbastanza a capire. Dunque, ci sono dei sassi che sono delle argille, tipo questi, questi piccoli, e dei sassi più grassi, più grassi, più grandi, più grassi, più cicciottelli, che danno, oltre ai sassi, possono dare, come abbiamo visto, del ferro o del rame che si è smeltato da subito un lingotto. Quindi, cosa molto, molto interessante. Un'altra delle cose interessanti sarebbe fare lo zaino più grosso. Attualmente, non so se possiamo farlo. È da vedere. Come sicuramente sarà anche da upgradare tutto questo bel precinto. Insomma, bisogna fare un bel po' di lavori. stiamo andando avanti assieme alla grande, anche grazie ai vostri commenti, ma c'è tanto da lavorare. C'è veramente tanto da lavorare. E quindi, allora, qua, dove me l'ha buttato? Fuori qui, forse? Sì. Ok. Avevo spazio nell'inventario. Quindi, facciamo così. Mettiamolo qua. Questo qua, mettiamolo qua. Facciamoci un altro bel lingottino. Questo qua, lo tiriamo su. Olè. Iniziamo e facciamo dei lingotti. Qua! storia della stufa a carbone. La stufa funziona a carbone. Questa serve, oltre per scaldare l'ambiente, anche per preparare roba da mangiare. Quindi, possiamo anche cuocere. Come funziona? Lo scopriremo, anche perché il carbone non l'ho ancora trovato. Ne ho l'idea di come si faccia a trovare. Però, ci lavoriamo, un po' alla volta ci lavoriamo tranquillamente. Ecco qua quello che vi dicevo. In basso a sinistra, vedete, overrating. Cioè, qua fa troppo caldo. Se ci spostiamo di ambiente, dovrebbe togliersi. Questo perché? Perché siamo vestiti troppo pesanti. E lì fa... Eccolo qua che si è tolto. E lì fa troppo caldo. Si muore anche di quello. Poi, adesso, il personaggio ha sete, quindi è facile che morirà. E noi non abbiamo ancora, credo, raccolto acqua. adesso andiamo a controllare, ma intanto vi faccio vedere altre cosucce. Cioè, per fare lo zaino che possiamo trasportare più oggetti, ce lo dice, possiamo farlo sul telaio, serve pelle di coccodrillo. Quindi, probabilmente, in alcuni laghetti si trova anche il coccodrillo. Un'altra delle cose che però possiamo fare e non ho ancora fatto è la torcia. Con un bastone e cinque fibre vegetali potremmo fare la torcia. Ora, qua, acqua non ce n'è. Non ce n'è. Acqua sporca, zero. Ora, con un bastone, prendiamo un bastone e, appunto, cinque fibre vegetali possiamo fare la torcia. Ora, fibre vegetali sono queste. Ne prendiamo giuste, giuste, cinque. Olè. andiamo qua. Bastone. Libra vegetale. Possiamo fare in effetti la torcia. Il problema qual è? Guardate. Il problema è una cosa abbastanza semplice. Purtroppo non abbiamo spazio nell'inventario perché se noi andiamo a vedere qua, vedete, abbiamo quattro slot pieni. Ed è per questo che serve un'altra cosa. Serve nello stoccaggio il supporto per armi perché qua abbiamo il contenitore, ok, asciugatura a mattoni, le cassa di pietra, il supporto legna d'ardere, assi, tronchi, bastoni, lingotti in ferro, rame, alluminio, non trovato, però il supporto per armi che è un'altra delle cose che è utile fare, è utilissimo fare e io metterei qua. E proprio, mettiamo qua il supporto per armi. Là. Perfetto, cosa serve? Servono dieci assi. Ecco qua, ad esempio adesso sono morto. Morto perché overrating e poi per sete. Possiamo rinascere, rinasciamo sopra il nostro letto con i valori standard, diciamo standard. Parliamo di valori standard, eccoli qua. Se noi ci avviciniamo vestiti qua, iniziamo a perdere salute. quindi attenzione a questa cosa qua. È molto importante stare attenti. Ora comunque facciamo qua, facciamo qua, prendiamo dieci assi e controlliamo sempre, ecco non ce la fa prendere perché abbiamo il bastoncino e tutti questi cavolo di sassi e giustamente non ci stanno. Buttiamo via il bastoncino un attimo, andiamo a prendere le assi che non ce la fa ancora prendere perché non ci stanno per il lungo. Bisogna fare spazio qua, adesso sì. Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Perfetto, tutte. Ok, andiamo qua, da questa parte qua. Oh là, e nella rastrelliera possiamo mettere ad esempio il piccone che non utilizziamo, lo possiamo mettere lì, là. Perfetto. Torniamo a prendere il bastoncino. Vedete come un po' alla volta si impara. Ok? Non è immediato, non c'è niente che ve lo spiega tranne il vostro amor rouge, però un po' alla volta si capisce. Ora, mettendo questo e mettendo appunto i cinque qua facciamo la torcia che ce la prende. dovremmo trovarla nell'inventario esattamente qua. Eccola qua, la nostra torcia. Wow. Che possiamo usare di notte. Ha anch'essa una durabilità. Ora, non so quanto duri, mi sono appena fatto l'ascia di pietra, quindi al massimo, al massimo anche la torcia. La nostra lancia di pietra è messa male, il nostro arco diciamo abbastanza bene. Vedremo quanto dura la torcia. E nel mentre andiamo avanti a costruire la nostra bellissima, bellissima casetta. Intanto recupero anche cose così da per terra perché mi piace recuperare le cose da terra così. Andiamo avanti. Allora, qua ho messo già le corde, anzi in realtà qua no, però qua sì. Cioè, dall'altra parte sì, perché alla fine non è tanto difficile fare queste, servono quattro corde, quindi nulla di che. È veramente nulla di che. C'è da dire che i tronchi finiscono in fretta. Ora, che cavolo è successo qua? Sarcavolo. Uh, che cora. Eccola là in fondo, guardatela. Guardatela là. Per ora ti lascio stare perché è inverno, anzi inverno. 5,6 gradi. Non siamo più sotto. Cioè, non siamo sotto temperatura adesso. 5,5 è la percezione della temperatura. Andiamo forse verso quella che può essere definita la primavera? Probabilmente sì. Adesso io non mi ricordo, forse il primo ho detto dall'inverno all'estate. Per realtà era dall'inverno alla primavera, ma poco cambia, nel senso avete capito il concetto. Ora qua, ovviamente, tiriamo giù gli alberi, recuperiamo la legna, la portiamo là e continuiamo a fare la nostra bella basina. Sperando che il lago si disgeli, che quel catino lì funzioni, per recuperare un po' di acqua non sarebbe male. Insomma, dobbiamo sperare in tante cose, ma sono abbastanza fiducioso che funzioni e quello che vorrei è che quando arriviamo al prossimo inverno, arriviamo al prossimo inverno e riusciamo a passarlo senza morire. Non sarebbe una brutta cosa? Anche perché l'obiettivo è anche quello, cioè cavolo, cerchiamo di resistere il più possibile senza morire. Visto che stiamo imparando un po' alla volta il gioco e devo dire un gran bel gioco, c'è delle belle meccaniche diciamo, però bisogna anche assimilarlo, impararlo, capire come funziona. Non è sempre immediato come abbiamo visto, però un po' alla volta lo stiamo capendo e un po' alla volta guardate la base come sta andando avanti, devo dire sta andando avanti molto molto bene. Ora ogni tanto faccio dei giri e direi anche di provare così la torcia devo dire che funziona. faccio dei giri perché a volte sponano le piante anche d'inverno sono sponate come vi ho detto prima io credo che sia un bug però quello che dobbiamo fare il prossimo autunno è iniziare a fare l'orto dentro cioè adesso lo lasciamo fuori perché ovviamente è più comodo quando piove si auto riempie quindi la cosa comoda è quella è chiaro però che d'inverno se abbiamo uno, due, tre catini una cosa del genere possiamo anche tranquillamente a questo punto andare e cavolo qua c'è sempre l'inventario pieno maledetto qua l'inventario possiamo anche andare a fare l'orto dentro perché l'orto dentro ha un piccolo difetto cioè il fatto che purtroppo non non viene autobagnato ok perché una volta che chiudiamo la casa non può essere autobagnato la differenza è quella però dentro possiamo tenerlo al caldo la stufa arriva cioè la stufa la fornace produce caldo fino a circa qua forse in qua temperatura varia di solito forse siamo qua circa comunque fa un'area quadrata forse qui ecco vedete qua 14 e mezzo la 23 quindi avere due o tre stufe o comunque una stufa vicino all'orto potrebbe essere molto utile raggiungendo la sera vedo molto bene è una splendida mattina splendida splendida e guardate lì marzo primavera vedete se ha il calcolo è giusto quindi siamo ufficialmente in primavera e l'ago si è schiacciato fantastico ora incombe però una serie di problemi diciamo di problemini allora sicuramente andiamo a accendere subito qua e andiamo a raccogliere l'acqua che problemi Amon allora uno dei problemi che ho visto è che nel gioco non c'è un appendino e voi mi direte ma chi se ne frega Amon che non c'è un appendino ci devi appendere i vestiti che compri no però guardate adesso vi faccio vedere un attimo solo che carico qua la borraccia allora vai distratto dal piccione che c'è là comunque andiamo qua l'acquetta è su perfetto lo possiamo raccogliere ancora vai ancora un po' di acqua vai mettiamo l'acqua adesso è strapieno non pieno ma strapieno questo qua lo buttiamo a terra anzi questo buttiamolo qua un po' di carburante questo lo buttiamo a terra raccogli ok e abbiamo della carne non male non male affatto ora visto che è primavera possiamo andare abbastanza tranquilli a ripiantare le nostre piantine cominciando da qua una qua una qua una qua molto bene un'altra qua meno male che ho trovato dei semi qualcuno ne avevamo già qualcuno l'ho recuperato ma meno male che ci sono ora in teoria qua appena piove dovrebbero iniziare a crescere cosa assolutissimamente gradita come gradita che devo bere come gradito che devo mangiare o le mangiamo fantastico ho recuperato un po' di cose un po' di sete il personaggio ha venuto prima c'è qualcosa di strano va bene comunque adesso sta molto meglio mi servono però altre cose che ci può dare la verdura in questo caso però abbiamo appena piantato le piante ora quasi quasi conviene converrebbe bagnare converrebbe bagnare andiamo a vedere se il nostro catino qua all'acqua non c'è una mazza cioè veramente non c'è una mazza ora qua l'acqua c'è quindi in teoria dovrebbero crescere e non morire le piante tutti i semi li ho piantati quindi si tratta solo di attendere ora tornando alla storia dei vestiti se noi andiamo qua non abbiamo purtroppo come vi ho detto uno stoccaggio di vestiti non c'è non c'è proprio stoccaggio di vestiti non c'è non l'ho visto ora questo cosa comporta e vabbè Amon cosa te ne frega di non averlo stoccaggio di vestiti in realtà c'è un problema adesso inizierà a fare caldo e quindi questo qua non ci serve più perché avremo caldo la temperatura qua non si vede però sale 30 gradi bisogna stare attenti e il problema è cosa facciamo lo buttiamo qua così che sembra un pezzo di cosa e poi soprattutto non è che te spona non ne ho idea allora per ora lo tengo su tra l'altro forse tra un po' forse piove per ora lo tengo su e va bene però sicuramente bisognerà trovare una soluzione io spero che non desponi perché sennò va rifatto prima dell'inverno sono cose che vorrei evitare oh una bellissima pianta di melone fantastico veramente fantastico ci mangiamo subito perfetto e piove soprattutto cosa molto molto importante molto molto importante ci piace la pioggia perché così bagna il nostro raccolto che in realtà era già pieno però dovremmo anche in teoria se va tutto bene provare anche il catino che non siamo riusciti a provarlo all'inverno perché ha smesso subito di nevicare purtroppo speravo nevicasse di più di solito nevica molto di più invece ha smesso forse perché stavamo andando verso la primavera ma comunque scopriremo adesso se funziona quanto tiene e se è una cosa veramente utile un'altra cosa da capire è sicuramente il catino è pieno adesso andiamo a vederlo un'altra cosa da capire assolutissimamente è se e come fare l'alluminio se trovarlo in giro come farlo l'alluminio per ora non l'ho trovato in giro però magari si trova in giro ora qua si va avanti sulla base giustamente guardate qua abbiamo una bella protezione che inizia a farsi sentire inizia a farsi vedere e la cosa mi piace però vorrei anche andare a vedere un attimo il catino un attimo l'orto se stanno tenendo le piante ci sono un po' di cose le cavolo di piante che salgono sopra qua spero che in qualche versione si stemino questo bug ora andiamo a vedere il personaggio ha pochissima stamina qua piantiamo subito semi di milone qua stanno crescendo fantastico e qua si è riempito si è veramente ripito qua possiamo bere qua c'è c'è acqua c'è acqua che possiamo prendere e infatti la riempie e sembra che ce ne sia molta non so quante volte riusciamo a prenderla però e poi soprattutto adesso abbiamo acqua sporca sì ok quindi possiamo cucinare anche questa alla grande tanto qua io continuo l'opera perché oltre a smeltare e a trovare i lingotti cioè i lingotti le pietre che poi diventano subito lingotti faccio tanti sassi perché i sassi sono fondamentali veramente fondamentali ora qua acqua sporca vogliamo perché non la riempi ah perché qua c'è acqua pulita e non ci fa più riempire questo brutta roba perché c'è una una borraccia più grossa di questa però si fa con l'alluminio come si fa l'alluminio non ho idea lo scopriremo nelle prossime puntate amici e nelle prossime puntate oltre che finalmente siamo in primavera voglio anche andare in esplorazione vorrei provare a superare il lago e andare da queste due parti qua e tra l'altro sembra che ci sia un'altura su una e sull'altra è collinosa poi c'è tutto questo fiume quindi sarà bello sarà bello vedere qua vedere questa zona poi vedere le altre zone quindi cosa interessante dovremmo andare a vederla ma amici per questa puntata vi dico che è tutto ci vediamo nel prossimo video dove andremo avanti da qua ma vi voglio ricordare di sopportare questa serie se volete farla andare avanti con un bel mi piace un commento una condivisione iscrivetevi al canale se non siete già iscritti attivate la campanella per non perdervi neanche un video vi ricordo che si sta facendo Instagram Facebook gruppo Telegram tutti i link in descrizione compresa la playlist di questa serie per non perdervi neanche una puntata da Amorice è tutto e ci vediamo al prossimo fottuto video ciao a tutti grazie a tutti